Con il Green Pass obbligatorio per gli Atenei, l'ultimo passo che divide gli studenti dalla didattica in presenza è il bottone digitale a loro dedicato, disponibile dal 16 agosto sul portale di Regione Lombardia prenotazionivaccinicovid.regione.lombardia.it, dove sarà disponibile un'agenda prioritaria per prenotare la vaccinazione in vista della ripartenza dell'elezione a settembre. Ferruccio Ressa, rettore del Politecnico di Milano, ha sottolineato l'importanza di vivere l'Ateneo e sul controllo del Green Pass dice di aver fiducia negli studenti, così anche il polo di Lecco è pronto a riaprire le porte, come ai vecchi tempi o quasi. Resta infatti la possibilità della didattica a distanza per chi non può o non vuole vaccinarsi, per tutti gli altri si prevedono controlli a spot, app con sistemi di autocertificazione e fiducia nel buon senso dei giovani. In vista dell'apertura del nuovo anno scolastico, in sicurezza, c'è adesione da parte del rettore del Politecnico alla linea della Regione, che vuole favorire una maggiore diffusione della vaccinazione, anche per gli studenti di altre regioni, di stranieri non in possesso di tessera sanitaria, ma con codice fiscale o altro codice identificativo, dottorandi, assegnisti e professori a contratto. Il personale docente e non docente potrà accedere ai centri vaccinali senza obbligo di prenotazione, tramite il cosiddetto accesso diretto agli hub. Si discute inoltre la possibilità di ospitare negli Atenei iniziative mirate per aumentare l'adesione alla vaccinazione.